Voi acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione Ciao a tutti salmoni e bentornati sul mio canale Ragazzi vi do il benvenuto in questo video che per me è molto importante in questo momento Perché tutti i contenuti del canale Da adesso in poi dipendono solo da voi Che cosa voglio affrontare quest'oggi come argomento? Voglio affrontare l'argomento dei contenuti sul canale Ma non che tipo di contenuto portare, d'accordo? Perché con quello più o meno ci siamo La questione che vorrei porvi è un po' delicata Perché io ho un sacco di progetti in mente, un sacco di progetti in corso E siccome un sacco di progetti li ho dovuti abbandonare nel corso del tempo Appunto perché sono arrivati altri progetti O appunto per mancanza di tempo per via delle live Quello che vi chiedo Quello che vi chiedo riguarda almeno questo mese Quindi sistemiamoci questo mese e poi ci penseremo Per questo mese volete più live, quindi più dirette o più video sul canale Perché è una cosa importante Io ho dei contenuti da portare al di fuori delle dirette, delle live E sono dei progetti che magari abbiamo stabilito insieme Sono dei progetti che magari aspettate Per non far accumulare roba come mi succede spesso E tanti video registrati non vengono pubblicati Tipo c'è una marea ancora da editare di Among Us E non ho il tempo assolutamente di editarli in questo momento ragazzi Perché la mattina ho il pc sempre occupato da Irene Per via delle lezioni all'università Quindi questo è un problema per me Non che Irene sia un problema, l'università sia un problema Il problema è che ho un solo pc decente con il quale lavorare Infatti in futuro ragazzi ho intenzione di farmi almeno un portatile Un qualcosa di scorta perché è così raga Se ho delle difficoltà con questo ho l'altro Non so cosa potrebbe succedere se avessi questo fuori uso Lasciamo stare Torniamo un attimo al discorso di prima Ho tantissimi video che non riesco a far uscire Anche vecchi ragazzi ho ancora qualcosa registrato sulla play di Fortnite per esempio Che vorrei comunque sfruttare perché sono un video che ci ho perso tempo E sono comunque contenuti per dei quali ho appunto perso tempo E delle forze no? Quindi ripeto Il discorso che vi sto facendo serve solo per capire se volete più contenuti A livello di video O se preferite che io faccia più dirette Ovviamente le dirette sono più semplici Perché è più figo seguire in diretta una persona magari Che ti risponde pure direttamente alle domande che gli fai Rispetto magari a un video che ne so di FIFA che dura 20 minuti Ti dici che palvo 20 minuti di video Tutte queste cose qua Mentre magari la live te la guardi per 5-6 ore di fila e te ne sbatti il ca È un po' ragionamento stupido ragazzi Però è ragionamento che facciamo tutti noi no? Commenta se sei così Cioè lasciano un commento per farmi capire che sei così Perché tanto sappiamo che quasi tutti siamo così Ora Voi sapete che io non nasco come streamer Nasco come youtuber Quindi la mia vocazione è quella di pubblicare video Anche se in realtà mi sento più libero Più indipendente quando faccio le live D'accordo? Quindi mi trovo in difficoltà con tanti progetti Non portati a termine O non proseguiti Lasciati lì in attimo in cantiere Perché appunto ho tante ore di diretta da fare Perché io spesso l'endieri faccio le live quando sto bene Ovviamente ieri ho fatto la live di 3-4 ore Sto registrando l'11-11 La festa nazionale in Polonia Non mi sono messo la maglia della Polonia Ragazzi perché fa un po' freschino Sono stato male fino all'altro giorno Quindi preferisco evitare Porto questa, la maglietta sotto Quindi sto un attimo al calduccio Però Quello che voglio dire Eh Io mi sento di fare più contenuti a livello di video Ma non perché ragazzi Sono nato così E così Continuo Per evitare che io possa sprecare dei buoni contenuti Buttare dei video Dei progetti Delle ore Perché ragazzi io rifletto ore Mi metto qui Mi metto un foglio di carta Per farvi un esempio Tipo che ne so Questo qua sotto Eh Ecco ragazzi Prendo un foglio del genere No questo è tutto sporco Perché vabbè Non me ne frega niente Dico che ne so Con Ribery Edito un video E me lo rivedo Non mi piace Se sono con l'acqua alla gola Che non ho contenuti Non ho portato niente Per un sacco di tempo Dico sono costretto Pubblicarlo Anche se non mi fa impazzire Come contenuto Però sono costretto Perché già ho perso un sacco di tempo Non ho altro tempo Per stargli appresso Ok Sto qui anche per spiegarvi appunto Quanto tempo io perdo Appresso dei video Che non usciranno mai Per questo vi domando Appunto Se preferite contenuti A livello di video O a livello di live Perché sennò Io mi concentro di più Sulle live E le cose che dovrei fare Nei video e nelle live Cioè nei video Lo faccio nelle live Anche se in realtà Non è la stessa cosa L'altra cosa È che io non registro Spesso e volentieri Le live Per via il fatto Che devo ancora fare Un piccolo upgrade Al computer Ovvero devo mettere Un hard disk Almeno da 4 tera Perché tra me E Irene Che stiamo registrando Facendo cose Si sta riempiendo tutto Quindi per questo Non sto ancora registrando Le live Non sto facendo dei Contenuti A parte l'aerofair Ste cose qua Non ho fatto il sondaggio Tutte ste cose qua Perché sapete Che io preferisco Parlarvi di persona Perché posso Spiegarvi più cose Non mi va di fare Un Sapete che non mi piace Scrivere i papiri Preferisco Essere diretto Ok Spiegarvi un po' di cose A modo mio E di conseguenza Ripeto Io chiedo il vostro aiuto Regà Perché Sono tanto Sono tanto Sono sicuro Che molti 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 di voi Risponderanno Alle live Sono sicurissimo Però Ripeto Sono qui per questo Sappiate ovviamente Vabbè Visto che la devo dire Pavale papale Se non ci sono donazioni Abbonamenti Guadagno di più Con i video Che con le live Questo penso Che sia chiaro Quindi È normale Quindi io Comunque sia Cerco di portare Sempre qualche video Anche per Arrotondare Un po' la cifra Ok Ditemi voi Ditemi voi Cosa dovrei fare Ditemi voi Cosa Cosa vi piace di più Come preferite Aiutarmi di più Se guardando i video Riguardando i video Ecco Per esempio Un'altra cosa Che vi chiedo Per quelli che sono nuovi O per quelli che Magari mi seguono Da poco O non da troppo Andatevi a rivedere Magari qualche video vecchio Ma non vi dico Degli inizi Che fanno veramente cagare Fatemelo dire Perché Allora Le prime esperienze L'attrezzatura non c'era Lasciamo stare Però magari Che ne so La carriera di FIFA Per chi è interessato Dell'anno scorso Quella del Tottenham Che è andata da Dio Andatevi a rivedere Che ne so I video di cucina Che sono stati carini Che appena avrò un modo Li riprendo Ma sono un po' un casino Nell'ultimi due anni Insomma Fatemi Magari andatevi a vedere I primi video Che ho fatto qui Nello studio In questa casa Io non mi voglio Io non mi voglio Dilungare troppo Non voglio che questo video Sembri Fatto apposta Per durare dieci minuti Per monetizzare Anche se molti di noi Lo fanno Non lo dicono Concluderei col dirvi Che non è importante Qualcosa di più Sapere I video arretrati Tantissime cose dietro Ancora c'è Ancora c'è The Town of Light Da far uscire Il DLC Di l'Aerofare C'è già L'Aerofare 2 Dei video registrati Da far uscire Ma qualcuno Che non ha un cazzo Da fare Vuole trasferirsi A casa mia A aiutarmi Con i video No No ragazzi Ripeto Per me è importante Fatemi sapere Io vi ringrazio E per non dirvi Cioè Per farvi vedere Non vi sto dicendo Una cazzata Che siamo gli 11 Si dovrebbe vedere Ecco qui Quindi se tutto va bene Questo video Lo state vedendo il 12 Se tutto va bene Ripeto Perché È un po' un casino E niente Io vi ringrazio Vi saluto come sempre Mi raccomando Iscrivetevi al canale Senza di iscritti Lasciate like E mi raccomando Fatemi sapere Cazzo Perché è importantissimo Fatemi sapere Come dovrei comportarmi Con i video E con le live Bella